Queste sono le nuove MRL MTL Skyfire 2 Matrix, una scarpa da trail super leggera, pesata per chi ama fare trail molto tecnici e molto veloci. Adesso insieme ne vediamo pregi di fette all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito dalla suola di queste Skyfire, perché qui troviamo una suola Vibram Mega Grip con un tassello alto 5 mm. Una suola che però, come potete vedere, non corre da tacco punta, ma che è veramente molto molto minimal. Una suola che a livello di grip, su tutto quello che è single track, sterrato, eccetera, non ha nessun problema. Quello che mi ha sorpreso è la sua tenuta su roccia, perché sia che sia roccia bagnata, ma anche roccia particolarmente unta, tiene veramente bene. Scordatevi però la tenuta sul fango, perché lì veramente si scivola tantissimo, perché il numero di tasselle comunque è abbastanza basso. Una suola poi, che come dicevo, non corre da tacco punta e ha una gran parte di intersuola esposto. Tutto questo intersuola, io sto vedendo che si sta rovinando veramente molto velocemente. Questo porterà sicuramente ad avere una scarpa che non durerà così a lungo nei chilometri. Però poi lo vediamo, questa non è nemmeno una scarpa con quale fare tantissimi chilometri, è proprio una scarpa da gara. Passando invece all'intersuola, qui troviamo un'intersuola in neve a doppia densità in Float Pro di Merrell. Un'intersuola che è, come dicevo, doppia densità, ovvero abbiamo una densità un pochino più morbida nella parte del tallone, per quando abbiamo magari un appoggio di tallone, è una parte molto più reattiva sulla parte anteriore, per quando vogliamo spingere. Ma non solo, perché la grande genialata di questa scarpa è stata metterci all'interno un plate, che va sia ad aumentare le performance quando corriamo, sia a proteggerci dalla roccia. Iniziando dalle performance, queste sono veramente assurde, cioè con questa scarpa potrete correre anche a 3,3,3 al chilometro e vi assicuro, viaggia, viaggia veramente tanto. Per quanto riguarda invece la protezione, questa penso che sia la cosa che più mi è piaciuta, perché il plate ci protegge bene dalle rocce, nel senso che se mettiamo il piede su delle rocce puntite non sentiamo male alla pianta del piede, ma riesce comunque a darci un ottimo feeling, cioè quando noi corriamo, camminiamo, riusciamo a capire bene cosa abbiamo sotto il nostro piede. Però senza provare dolore. Vi assicuro che questo plate è la cosa che più mi è piaciuta di tutta la scarpa, e in generale l'intersuola mi è veramente piaciuta tanto. È un'intersuola poi veramente bassa, perché parliamo di 25 mm sul tallone e 19 mm sull'avampiede, dunque con un drop 6, ed è un'intersuola che se amate spingere e andare veloce vi assicuro che vi aiuterà tantissimo. Passando invece alla parte superiore della tomaia, iniziamo dal puntale, perché lui trova un puntale completamente destrutturato, un puntale con il quale dovrete fare tantissima attenzione a non prendere dentro nelle rocce, perché sennò vi farete male. E la stessa cosa va anche per la tomaia. Non c'è un minimo di struttura, la tomaia è completamente destrutturata ed è anche molto molto sottile. È realizzata completamente in matrix, quindi comunque è un materiale sicuramente durevole e molto traspirante. Però è anche un materiale che nel momento in cui magari dovessimo strusciare di taglio qualche roccia, vi assicuro la sentite. Un materiale, il matrix, come dicevo, che durerà a lungo e questo gli garantisce anche un'ottima durabilità nel momento in cui andiamo contro qualche roccia. Passando alla parte posteriore del tallone, qui troviamo un tallone abbastanza destrutturato. Un tallone che nella parte inferiore ha comunque una geometria che cerca di tenerci in strada, in modo tale da non avere troppo scavigliamento. Ma qui vi assicuro che il tallone non è uno di quelli che vi aiuterà molto nelle discese tecniche. Cioè per intenderci, qui o avete una buona muscolatura sulle gambe per la quale siete molto stabili di vostro, oppure non potete chiedere alla scarpa di essere stabile per voi. Però un tallone che dal punto di vista dell'imbottitura è un'imbottitura minimal, ma che comunque svolge il suo lavoro e alla lunga non si hanno dolori. Passando alla parte di linguetta e lacci, troviamo una linguetta a soffietto molto molto minimal, molto sottile, che comunque però svolge un buon lavoro isolamente dai lacci. Lacci ne troviamo abbastanza lunghi, arrivano abbastanza in punta sulla scarpa. In generale comunque una scarpa che nel momento in cui andiamo a calzare e stringere bene va molto attorno al nostro piede. Quindi la scarpa diventa praticamente un tutt'uno col nostro piede. E questo vi assicuro che quando si corre su loccia è veramente un'ottima sensazione. Passando invece a parlare della grandezza dell'avampiede, ma direi in generale della grandezza della scarpa, è una scarpa veramente stretta, veramente piccola. È una scarpa della quale io ho dovuto prendere obbligatoriamente mezza taglia in più, perché nel mio solito numero non ci stavo. È una scarpa della quale se avete degli avampiedi particolarmente larghi, o veramente prendete una a una taglia in mezza in più, oppure proprio meglio lasciar perdere. Perché a livello di scarpa sia sull'avampiede sia sul tallone è veramente stretta. Arriviamo dunque a capire dove vi consiglio di utilizzarla e a chi la consiglio. Vi consiglio di utilizzarla su tutti quei trail molto rocciosi. Mi vengono in mente le gare come il Kima, la Green Sky Marathon, comunque tutte quelle gare dove nel 99% del tempo si corre su roccia. Se abbiamo dei sentieri poi di single track, eccetera, non è sicuramente un problema, ma evitate tutto quello che è il fango, perché lì non tiene. È una scarpa pensata per atleti elite. È una scarpa pensata per chi è molto leggero, ha un'ottima muscolatura, un'ottima stabilità, per chi punta a vincere delle gare. Non è sicuramente una scarpa pensata per chi invece magari cammina, non è così stabile o addirittura è un principiante. Quindi in quel caso meglio lasciar perdere. Arriviamo dunque alle conclusioni per queste Merrell Skyfire 2. Merrell le vende a un prezzo di 200€, l'Alle si trova anche a un prezzo inferiore. Ve le consiglio? Sì, perché è una scarpa veramente prestazionale, molto leggera. Pensate che si parla di soli 210 grammi nella taglia 42 uomo. Una scarpa prettamente da gara. Non è una scarpa che sicuramente andrà a utilizzare per allenamenti o comunque anche per farci delle ripetute. Una scarpa da avere nella nostra rotazione da utilizzare quando veramente vogliamo spingere e dare il massimo nelle nostre prestazioni. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stata esaurente e esaustiva anche per questa recensione. Vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!